Oh No, non è vero, non è vero. Se lasci mi piace a questo video sarà un anno fortunato per te su fc 25 Salve a tutti ragazzi e bentornati a me in show show, ci siamo Iniziamo a giocare per la prima volta a fc 25 Eccolo bellingham che ci dà il benvenuto e prego signori di viva e questa è la mia prima volta E' mezzanotte 10 sto per svegliare mia figlia e mia moglie quindi disastro il pack opening domani quindi ragazzi 20.000 mi piace faremo un mega pack opening con anche delle sfide quindi non Mancate e poi nei prossimi giorni farò più video quindi primo draft voglio provare rush ma oggi voglio provare il gameplay Quindi giochiamo per la prima volta c'è bellingham che ha i calzini tagliati dietro vedete c'è i pallini e c'è sta cosa fighissima Se questo video supererà 30.000 mi piace la prossima settimana iniziamo la carriera Ah questo è il primo team of the week con messi e hernandez vabbè avrete visto sicuramente perché già gli streamer giocano da un paio di giorni quindi Vabbè perché staranno tutti entrando ragazzi c'è mezzanotte No vabbè ma ci posso credere ma anche iniziata te prego Ok ragazzi ci siamo mi sembra piuttosto simile a l'anno scorso questa è la mia rosa Attualmente ho scelto Brasile e poi da un pacchetto gratis mi è uscito Douglas Lewis ora Dobbiamo imparare tutta la questione delle tattiche fciq però questo è solo per capire il gameplay Però il centrocampo ce l'ho bello devo dire Raga ma questa forza è la prima volta che mettono i pacchetti promo al primo giorno Allora domani ci spacchettiamo questi Ci abbiamo questi solo per farci la squadra così andiamo subito a giocare tanto il pack opening arriverà Questo è il primo pacchetto di FC 25 Oggi capiremo se piove o no 3 2 1 vai Primo pacchetto Ok bella l'animazione questa ragazzi è la cosa figa Poi impareremo CAC del Belgio della Bundesliga potrebbe essere praticamente chiunque Oh dell'Ipsia Che è un walkout no? Eh Chavez Simon Che glielo vuoi dire? Bel pacchettino 83 Poteva essere tra 75 e 83 83 Ma sono emozionato non mi è mai successa sta cosa Eh beh si pure single Non c'è sputo sopra Ho letto che gli mettevano tipo il prezzo medio Secondo pacchetto 75 e 83 Ok mi sembra interessante Un esterno adesso Del Gana E chi può essere? Qualcuno del Ah Kudus Può essere? Kudu Però non è Gane È Ganesi? 90 di velocità Corre come un cane Solo gli occhi se la ricordano questa E Broberry Oh del Gana Vedi ragazzi Conoscere le bandiere africane Ma che me volete di? Bellingham e l'ambasciatore in prestito Ce lo scegliamo noi Io voglio Aitana Aitana bomba di Bellingham e Aitana bomba di E stanno a posto A parte che stupido Ce l'avevo Douglas Lewis Ho trovato tutti i centrocampisti Fa niente ragazzi Fa niente Bene Ah vabbè corre però Dai Che io voglio di? Ok 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 83 Dai Oh è una donna Persino a destra Chiunque Ehm 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 Carl 80 però Che schifo Ehm Mose Mose se ne va subito in attacco Mose Bravo Mose Questa è la nostra prima formazione su FC 25 Avevo 800 crediti Lukaku 400 crediti Che secondo me Ci sta eh Attenzione E ho preso in difesa Mario Gila Lo prende gatti eh Però lui c'ha bei playstyle Ehm Per la difesa Ragazzi secondo me Ci sta Ci sta Bisogna capirla Bisogna capirla Vedete c'è personalizzata Insomma con la palla Senza palla Gila Come difensore Non c'ha il playstyle plus Ma posso modificarglielo in Stopper Vedete Un difensore centrale Abili nel conquistare la palla Insomma ragazzi Capiamo Capiamo Vabbè Partiamo dalla divisione 7 Non credo che sarà una buona idea È mezzanotte E 50 minuti Sto per giocare la mia primissima partita Di FC 25 Guardate che figata Sta roba Io questo comunque volevo vedere Ecco che Che i tifosi ci danno A CRT Neto Vabbè Così Giaguti E Jackson Beh questo è forte ragazzi Adesso io mi sono pure dimenticato Di Proordinare il gioco E quindi non c'ho manco il pacchetto Con l'Iro Vabbè ragazzi È la nostra prima partita Si va si va si va Tocca la mia palla Le kek Ma se va così ragazzi Mi sembra un bel po' più lento E' pure vero che era un gioco da una vita Quindi insomma Insomma Manco la persona giusta Per dirvi le differenze Tra un gioco e l'altro Oddio Comunque guarda Il mio attaccante Cioè no attaccante Il mio Esterno Rimane altissimo Come se fosse Un 4-3-3 In fase di difensiva Ma non è quello che gli ho chiesto io Oh Brava Vedi regà Vedete Vedete Guardate Guardate come sto Vedi Sto in superiorità numerica Vai Lukaku Primo tiro Ah Buono Fica sta cosa ragazzi Che in fase di transizione E in fase di difesa È diversa Forse perché gli ho lasciato Tipo offensivo Non lo so Bo Bravissima La cosa su Luis Fortissimi Vedi vedi Bella È tutto del là Tutto del là Ma come Ma chi sei Che te la sei baffata così Come si chiama Uissa Ho lasciato scoperta La fascia Dai Parisi Non molla Pari Non molla Pari Questo tira Oh Oh Ho tolto la palla Incredibilmente Mario Kila Allora Allora Ti posso dire che mi piace Ragazzi per il momento Mi sembra più lento Vabbè Sapete che Il gameplay Cambierà 250 volte Però per il momento Mi sta piacendo Rimangono incredibilmente Soli Oh Bravo Come ti dà cuore Uissa No Regà Me la so pappato Lukaku Il primo gol È di rapina È Romelu Lukaku Ragazzi mi piace un sacco Mi sta piacendo un sacco Però io devo cambiare L'inquadratura Perché Devo dire che è veramente brutta Il primo gol È di Romelu Lukaku Però questo si è mangiato Guarda Dove si è mangiato questo E poi Lukaku Questo è un rigore in movimento Si è un Che la sbattacca Non lo voglio Vai Uissa Uissa Ambeye der Oh Che prometti Non corriamo rischi Ah mi suggerisce La formazione È vero ragazzi È vero Poi ti possono pure Suggerire le cose Le tattiche No è sinistro È sinistro Kudi È sinistro Vedi ragazzi Io rimango Rimango sempre due No Viste Vabbè Rimango sempre tre contro due Perché penso Di aver lasciato E Uissa Alto Quindi rimangono I due centrali suoi E uno mio Oh ma è tattica sta roba Vediamo un po' Se è come ho detto io Si vedi Offensivo Quell'altro è bilanciato Però Uissa È proprio una merda Porca miseria Poi ragazzi Cambierò L'impostazione Non lo so Forse questa È migliore Come inquadratura Ragazzi Riesco a vedere più campo Solo lui C'ha sto Kudi Ne sta affaffette Eeeh Ha Kudi Oddio What's again? Ah Era passata Ma che se la va a riprendere Nooo Non puoi E vai Si Ma si Non voglio svegliare nessuno Con la numero 10 Lionel Messi No Moise C'è Oh 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 L'Obelu 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 400 crediti Giocatore Letteralmente Sontuoso Però vediamo Sti suggerimenti Didattici Perché Ah ma vedi Però ragazzi Mi fa cambiare proprio Il modulo Ma io non lo voglio cambiare Il modulo Cioè Vince tra zero Ma che sto pazzo Squadra che vince Non si cambia Anche se magari Ecco Eheh Douglas Lewis Fortissimo Poi si Ah Eh no Non devo fare Questo Questo tiro Mi devo fare proprio Il passaggione lungo Ragazzi Palla lunga E pedalare Attenzione Occhio che mancino Signora Lei Eh no Ha cascato quello davanti Ok Ok Ho panicato Ho panicato un po' Aspetta ragazzi Adesso offensivamente Lui Sta producendo Il massimo sforzo Eh no Eh no Eh mi sono fregato da solo Mazza è bel gol Mi sono fregato da solo No Regà 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 Aiuto Aiuto Spinazzola Eh fino in fondo No Madonna Dentro la porta Da 3 a 0 A 3 a 2 Pure Ghiog E adesso Questa fatta entrare Ma chi è questo Ah mannaggia Vai 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 che l'hai superato Prego che l'hai superato Ah Super Vlumelu Subito Gli ho Gli dice Calma calma Volevo finire la prima partita A 0 gol Ma è impossibile Ragazzi Devo pure capirlo Il gioco eh Però occhio Non Pecca subito Bravo Murillo Bravissimo Vedi ragazzi Faccio così Palla lunga Verso Lukaku Se ci avessi uno Più forte De Wissa Potrebbe essere Veramente un problema Bravo Cioè vanno bene Solo i passaggi diretti Insomma Eh no Fammi scegli lei Eh no Non me l'ha scelta Bravo Kudus Aspetta Metti da mezzo Ma che schifo è Ma che schifo è Stavo da solo Però la prima partita Ce la portiamo a casa Feedback da prima partita Più lento Ci metti un po' di più per Buildare Però Oh mi è piaciuto ragazzi Mi è piaciuto 3 a 4 la prima Mazza ragazzi Ho guadagnato 500 crediti Questi 500 crediti Li posso spendere Secondo me Però non so se Alla divisione 7 Già sono buoni Perché questo Il giocatore ce l'aveva Ho investito E ho preso David Neresh Oh sì Oggi sta tutto In napoletanito Ah così Belle queste Dai Ah non mi sono sentito Super super confident Zimbabwe Va bene Vediamo chi è il nostro Avversario Carne secchi Va bene Neresh pure lui Luckman e Turam Azzazazzo Questo gioca ragazzi Tutto serie A Vabbè ragazzi Possiamo fare Il nostro gioco Si va si va si va Poi impareremo Questo è già skill Eh Ma ragazzi L'abbiamo già L'abbiamo già beccato L'abbiamo già beccato Neresh Bravissimo Neresh E ti dia a correre Neresh Bravo Bravo Oh no Perché non Non ci ha creduto Mosekin No grande ribaltamento Sto di fronte Eh vabbè ragazzi Questa è una cazzo È un maiale Questo è un maiale Alla seconda partita Il porco schillatore Bravo No 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 Mannaggia ragazzi Contropiede Palla lunga e pedalare Ce sto eh Bravo Oh David Neresh Primo pallone Te lo butta subito dentro David Che fa Che fa Che fa No Vabbè Che sul ti così David Ragazzi Lui skilla Però vedete Con sto fatto Che ho messo Gli attaccanti E un esterno largo È come se giocassimo Il 4-3-3 In fase difensiva Eh no Però qua Vabbè Questo Me batte Ragazzi E chiedi se gioca Proprio Un po' Too much Gioca Mani per terra Oh Fallo Come no Come no Bissek Cica Bissek Guarda con S Luca è sbagliato Dalla devo votare Bravo Non me li devo mangiare Non me li devo mangiare Non me li posso mangiare Non me li devo mangiare Non me li devo mangiare Da Lukeman Stancattivo Solo ragazzi Non gli aggiornano mai Sti giocatori Cioè Lukeman è il modello Dell'anno scorso C'ha ancora i capelli corti Cioè È il modello De quando stava All'Eister Oh Oh No Non è vero Non è vero Non è vero Seconda partita Su FG24 Cioè 25 Non è vero Non è vero Questa è la seconda È la seconda partita Seconda partita Moise Ken Non ce lo fanno vedere Mamma mia Da cazzo Luiz Ma quanto cacchio è forte Eh vabbè Lo brucio Tanto Neyres 600 crediti Già ben spesi Bravo Neyres Ancora lui Oh Lukaku Non si sposta Va bene Va bene Va bene Va bene Peggiore in campo Ah perché mi danno Guarda mi danno Stanno dalle statistiche Non ci capisco niente Leva sto coso Bravissimo Bravissimo Oh ancora con queste roveghe Bravissimo Parisi Mi sto fomentato Come una biscia No è fuori gioco Voglio darla a Lukaku Che parte Mario G Si fa inculare Palo goto Gotopoli Vedete poi la palla Se la va a prendere sempre Neyres in questo caso Tu lo ragazzi Ho qualche difficoltà Nello switch Bravissimo Neyres Se la va a prendere Neyres Incredibile Neyres Mi fa godere Mi fa godere Mi fa godere Sto giocatore Bravo 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 Neyres vai Vai Neyres vai Neyres 3 a 0 E va sicuro Questo giochicchia Ragazzi Ma il controvedere Dalla muerte Di Mr. Spettacolo Non lascia scampo Non lascia scampo Non lascia scampo Eh si però Namo c'è prova Eh no Eh no Ecco Gli torna Eh vabbè Eh vabbè Vabbè ragazzi Ma qui Lui Lui sfortunato Devo dire Beh Io se avessi preso Sto palo Avrei bestemmiato Avrei spento Cancellato il gioco E chiesto rimborso Però Seconda partita Di FC 25 Bello Bello Tanto mi ricorda FC 24 Inutile Poi lo sapete Mi sembra ripeto Un gameplay Differente Forse legato Un po' di più A sto fatto della tattica Poi Ragazzi Appena Quando me la gente Capisce E' finita Eh no Eh no E qua non mi ha seguito Qua non mi ha seguito Bravo però Se la riprende Fino in fondo Noo Ste rovesciate Questa è la seconda M-Pappo Lukaku Si gira Lukaku Lukaku La Dianella Mamma mia Lukaku La forza Shush Shish E ancora Daga Sluis Verso Lukaku Lukaku Noo L'Enero Spirazio Mamma mia Come gliel'ha rubata Ragazzi Noo Che schifo era E no Sta fuori posizione Noo Noo E no Eh giusto Che culo Però Ragazzi C'è C'è la ripresa Con colpo di testa Gli è ritornata lì E poi Molto molto difficile Difendermi da Da questo Bella Eh Vabbè 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 Ho presa io Ho presa io Tripleta Neres 600 credit Spesi bene Quelli vinti Nella scorsa partita Li vado a mettere Su David Neres Vabbè Qua Devo dire Mi dispiace un po' 1-4 Che però è giusto E ci riporta Su Su 3 gol di distanza Però questo fa Il kickoff Eh Vabbè Beh però pure lui Un po' di culetto Ce l'ha eh Non credo Eh vabbè no Allora no Allora no Sì Sì Non credo proprio Quarto gol Se ne ha fatti i 4 David Neres Ve l'ho detto ragazzi Ragazzi Troviamo Wissa Mettiamo David Neres Quanto cazzo è forte Douglas Lewis ragazzi Quanto cacchio è forte Douglas Lewis Non si è spiace Vabbè Keenan è merda Vabbè Però quello lo sapevate già Guarda quanto cazzo è forte Douglas Lewis Mamma mia Ancora Douglas Lewis Bravissimo Non lo manda in fuori gioco Ancora per Neresh 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 Va bene Kudus Calma Calma E sto qui Calma Adesso ragazzi Come ho giocato Vedi boom L'ho spostato con la spalla Ma che figo Se a uno è vero Come dire Mike ma sta in divisione 7 Allora questo giocava Ma c'è Douglas Lewis C'è Douglas Lewis Ma io ne faccio pure un altro Penso a contento Fuori gioco? No Non era fuori gioco Che cacchio aveva fatto Neresh Bello ragazzi Veramente 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 Molto bello Adesso che ho preso un po' più di confidenza Il gameplay lento Mi piace di più Però giocava Dati alla partita Vediamo un po' Vabbè Gol previsti 5 a 2 Voglio vedere se dal punto di vista grafico È cambiato qualcosa Intanto ho visto Vedete Sequenza introduttiva Completa Quindi vuol dire che poi finalmente scegliere sta cosa Se spera che adesso Magari nella nostra modalità carriera Che arriverà presto E sono tornate pure le intro Così le posso fare io Allora voglio vedere però Insieme a voi Se dal punto di vista Grafico Tecnico È cambiato qualcosa Penso di no E quando io spesso vi dico È sempre uguale È sempre uguale Intendo questo Cioè nel senso È pur vero che io mi sono messo l'anima in pace Che se vuoi Quel tipo di qualità Che fai il gioco su pc Ok E Te scarichi le mod E lo pompi A bestia E però Ah oddio ragazzi Hanno cambiato tutti i replay E meno male Gli hanno fatta Oh mamma Così puoi fare pure Le copertine Godopoli Ah no Modello dei Messi ragazzi È sempre quello Belli peli eh Che ti devo dire Però Non mi pare sia cambiato Cristiano è sempre 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 lo stesso Zitti Zitti Raga pregamo Pregamo che sia buono Che non lo sminchiano E che vada bene Perché Queste prime due partite È vero che È l'1.40 Però Mi è piaciuto Fatemi sapere voi che ne pensate Se ci state giocando Arriverà Domani Il primo pack opening Draft Rush Gli giocheremo E soprattutto La carriera Non mancate